Ciao a tutti ragazzi, sono Mattia99 e oggi fai l'ambossi di un gioco per il PC Ad esempio, Lego Star Wars, il videogioco Questa è la sua copertina, questo è il fronte, questo è il retro Apriamo, questo è il disco di gioco e questo è il suo manuale, bianco e nero Nel retro c'è scritto in italiano, però il manuale è italiano e anche il gioco è in italiano Ok ragazzi, l'unboxing è finita, ci vediamo al prossimo video, ciao